Ciao ragazze e ragazzi, mi trovo a casa di mia figlia e quindi finalmente dopo una settimana vi farò un altro video. Cerco nel suo armadio dei capi che ancora lei ha una trentenne, ma cerco dei capi che stanno bene anche a una cinquantenne, perché no? Purtroppo lei è un po' più piccina e quindi alcuni vestiti mi stanno stretti, strettini. Però vorrei farvi vedere che una donna cinquantenne potrebbe anche vestire con i vestiti di una trentenne, solo che io sono fortunata perché mia figlia veste molto femminile. Quindi ha tantissimi vestiti, abiti e con questo avrò un gran bell'aiuto. Questo tipo è un abito a portafoglio, io che dico sempre state attente che non si vedono le bretelline, questo vestito è fatto apposita con le bretelline a vista, cioè praticamente non è il mio reggiseno, sono proprio le bretelline del vestito. E' un vestito strettino, ovviamente di lunghezza permette di essere indossato da una donna over 50 e quindi questo per una serata sicuramente io lo ruberò. Anche perché ragazzi qua di sera si può uscire, non ci sono grande feste, non ci sono discoteche club, però ci sono dei posti dove già si può andare. Un bacio a tutti!